I cittadini che non hanno ancora provveduto ad accatastare il proprio caminetto, stufo o caldaia possono serenamente mettersi in regola gratuitamente e anche adesso. Detto questo, anche se l'obiettivo di tutelare l'ambiente è sicuramente lodevole, le modalità per raggiungerlo non ci convincono. Censire spesso significa applicare nuove imposte e sull'argomento sentiamo puzza di bruciato. È il segretario provinciale di Confartigianato Alessandra Papini a prendere adesso posizione. La regione toscana infatti ha imposto l'obbligo di accatastamento di camini, stufo e caldaie che usano biomasse, ovvero prodotti come legna, pellet e cippato per produrre calore, un tema che sta creando un forte dibattito. Servono informazioni precise, continua Papini. Nel caso di futuri controlli, laddove l'impianto non risultasse in regola, la delibera prevede comunque la possibilità di procedere senza incorrere in sanzioni entro non oltre 30 giorni dalla data del controllo. Pertanto la multa nel caso scatta dopo 60 giorni e due richiami, quindi verranno evitate comunicazioni fuorvianti e poco chiare come sta accadendo in queste ore. Sul tema, conclude, la regione istituisca subito un tavolo di concertazione coinvolgendo i nostri tecnici ed impiantisti per fare chiarezza e soprattutto per scongiurare future tasse per i cittadini. Grazie. Grazie.